Ho avuto questa sera la fortuna di essere stato vicino a Dottor Agostino Cesaroni che ha permesso di trovare questi ospiti così illustri che in qualche maniera ci hanno fatto sognare, perché ci hanno raccontato il cantiere visto da dentro, mentre noi siamo stati abituati a vederlo crescere un pochino dal di fuori, con questa struttura un po' magica, un po' sinuosa. Siamo soddisfatti di questo rientro un po' in comunità, questo rientro dopo il periodo così buio, così triste del lockdown, della pandemia. L'attività in Rotary Club Pesaro è stata comunque sempre vispa, vivace durante tutto l'inverno, abbiamo fatto molte attività per la città, adesso la prossima settimana ci sarà il cambio di presidenza e anche io mi riposerò un po' di più. I valori trainanti sono diversi, direi che possiamo citare valori di carattere etico come quello del rispetto dell'ambiente, il rispetto e anzi la promozione del personale e sicuramente ci teniamo molto che il nostro progetto sia calato nel territorio sia di Pesaro che della regione Marche. Credo che il nostro progetto proprio per la sua vocazione a metà strada tra il turistico e il commerciale sia veramente calato perfettamente nella realtà della città e del porto. Il cantiere Rossini è per vocazione internazionale, noi quando promuoviamo la nostra attività promuoviamo in realtà la città di Pesaro più ancora che il nostro business. Sicuramente questo offre anche grosse opportunità alle altre imprese del territorio in quanto abbiamo la possibilità di attrarre equipaggi, armatori e appaltatori che vengono praticamente da tutto il mondo e quindi di far conoscere la realtà locale anche in contesti nei quali altrimenti non sarebbe sicuramente conosciuta.